Affiancare i collaboratori sarà un asset importante per la loro crescita. In primo luogo fallo per far vedere che scende in campo con loro, per verificare la qualità e l'intensità del loro impegno, l'applicazione del metodo, dare anche loro uno stimolo e una motivazione forte nell'impegno quotidiano, soprattutto ascoltare e analizzare le persone, i clienti e tutti gli interlocutori che entrano in gioco, ma soprattutto per sperimentare delle nuove soluzioni che tu stesso hai pensato di implementare attraverso la riflessione critica del loro operato. Induce le persone a rivalutare sempre la loro azione. Al termine di ogni azione chiedi loro che cosa pensano di dover fare o non fare in una situazione analoga. Il concetto di professionalità si fonda non semplicemente sul fare bene le cose che devi saper fare, ma nel domandarti ogni giorno se dovessi rifare da zero, cosa rifarei, cosa non rifarei, per farle sempre meglio. Questo è importante perché definire un percorso di miglioramento impone evidentemente stabilire con delle persone degli accordi e gli accordi quanto più ampi sono, quanto più ampi solidi si riveleranno. E in questo saranno fondamentali le tue abilità negoziali che vedremo nel prossimo capitolo.